Le cravate e i fular di Ugo Cilento diventano messaggio di diffusione e di conoscenza internazionale per il Real Sito di Carditello. Lo ha annunciato il presidente della Fondazione Luigi Nicolais durante un incontro che sigla un formale accordo tra due importanti realtà di epoca borbonica. Il Real Sito di Carditello, infatti da tempo, sta diventando un modello dove sperimentare la collaborazione tra pubblico e privato per consentire di ristrutturare l'edificio ma anche per renderlo visitabile con eventi culturali e in particolar modo con l'allevamento dell'antico cavallo di Persano anche gli risalenti all'epoca del Borbone. Ugo Cilento, sin dal primo momento, ha voluto essere presente ed essere un sostenitore di questa rinascita dedicando proprio alla rara e preziosissima razza equina una collezione che da ieri è diventata anche ufficialmente quella del Real Sito borbonico. Ritengo giusto che il cavallo Persano, così come in essere adesso grazie al presidente Nicolais che ha rilanciato a livello nazionale e internazionale il Real Sito di Carditello e oggi ci sono i cavalli Persano alla regia di Carditello è doveroso da parte mia affidare la cravatta e il folare che io a suo tempo ho realizzato a loro perché è il posto più indicato dove può stare la mia cravatta e il mio folare. E' stato dunque presentato a Palazzo Ludolf alle Riviera di Chiaia a Napoli il progetto di sponsorizzazione tra la fondazione Real Sito di Carditello e la Maison Cilento. Durante la presentazione sono intervenuti il presidente della fondazione Luigi Nicolais e il direttore Roberto Formato. Ma Carditello è una cosa unica nel mondo quindi noi dobbiamo fare molto di più queste cose per me sono essenziali per portare la presenza di Carditello nel mondo a una bella cravatta con dei bei cavalli persani oppure un folare che in qualche modo creano curiosità da parte delle persone che acquistano questi oggetti e per noi è una grande occasione perché noi vogliamo diventare internazionali. Siamo molto contenti perché questo primo lotto di lavori cui ne seguiranno altri due ci consente di come diceva riportare agli antichi splendori Carditello che ora si presenta già con una facciata bellissima e con la presenza dei cavalli però con gli interni ancora solo parzialmente visitabili.